Il valore economico direttamente generato e distribuito lo scorso anno è stato di 1,32 miliardi di euro, è quanto si ricava dall'approvazione del bilancio di sostenibilità 2023 di Estra. Estra distribuisce la maggior parte della ricchezza prodotta, l'89%, oltre un miliardo di euro, finisce infatti ai fornitori con il gruppo energetico che alimenta le economie dei territori nei quali opera. Sono 120 le piante da frutto piantate dai detenuti nel carcere fiorentino di Sollicciano. L'ortofrutteto solidale, nato grazie a Estra, fa parte della campagna lanciata da Zero CO2 e Legambiente. In funzione nel comune Val Bisentino di Vernio, Prato, due nuove stazioni Estra per la ricarica dei veicoli elettrici. Sono 39 le colonnine per la ricarica elettrica installate da Estra nelle regioni in cui opera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.